Un saluto a tutti i tifosi, forza Grifo, ci vediamo allo stadio. Ciao, sono Luca Strizzolo, non vedo l'ora di gonfiare la rete sotto la nord. Gregorio Luperini e Luca Strizzolo sono gli ultimi due acquisti ufficiali del Perugia, rinforzi necessari viste le difficoltà palesate a Palermo dal Grifo. Se la trattativa per il centrocampista è stata lunga e tortosa, per l'attaccante Giannitte ha lavorato sotto traccia. Strizzolo classe 92 vanta 163 presenze in Serie B, impreziosite da 36 gol e 14 assist. In cadetteria ha indossato le maglie di Cittadella, Pordenone e Cremonese. Con i grigiorossi nella stagione trionfale dello scorso anno ha totalizzato 4 gol in 22 presenze. È il classico attaccante utile alla squadra che non segna tanti gol ma sa creare spazi importanti per i compagni. Insomma, il profilo di giocatore richiesto fin dall'inizio del mercato da Castori. Strizzolo arriva a Perugia in prestito annuale con diritto di opzione. Luperini invece è stato acquistato a titolo definitivo ed ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025. Per entrambi potrebbe esserci la possibilità di esordire già sabato sera al Curi. Castori sta infatti delineando l'undici anti Parma. Davanti a Gori la difesa 3 potrebbe essere composta da Sgarbi, Angelle e Curado con Dell'Orco ad agire sulla corsia mancina. Dall'altra parte conferma per Casasola. A centrocampo sicuri del posto Vulice e Kwan. L'altra mezzala potrebbe essere proprio Luperini in vantaggio su Santoro che non è ancora al meglio. In attacco Mecchiorri e Olivieri sembrano partire avanti rispetto a Matos e Strizzolo.